Arriviamo super decentrato e con queste canzoni molto discutibili. Cominciamo questa live. Intanto, prima cosa, come mi sentite? Perché questo è il microfono nuovo e lo sta catturando direttamente OBS, non più di scordo culo. Quindi tecnicamente dovrebbe sentirsi meglio. E in realtà, per capire al meglio questa cosa, andiamo direttamente dai nostri amici giù, che sicuramente avranno preparato la nostra nave. Sì, soprattutto perché era le 59, Torfey mi ha chiesto Hai preparato la nave? No. Vero, Torfey? Vero, Torfey, che ho detto? Sì. Ok, adesso ci vedete anche. Avete fatto? Qui c'è un'emoto gratuita. Ok, si sente bene. Oh, bene, sono contenta. Ditemi i volumi che almeno li sistemo, li faccio tutto prima di iniziare. Avete fatto la nave voi? Ciao chat! Ciao chat, ciao, buonasera, buonasera. Buonasera, bene, bene. Innanzitutto ringraziamo le foglie di pollo per... Esatto, ma io ho capito che i chicken leaves, sua chicken se ne va, ringraziamo i grandi chicken leaves che io in realtà so, conosco la sua identità. Prima però riscattate le motte gratuita. È riscattata. Riscattiamo le motte... Allora, alza Luca e Marco. Allora, un attimo, subito, subito. Sì, sì. Ciao amici, mi raccomando, non vomitatevi addosso. Ah no, quella verrà subito. Come ho già scritto. Sicuramente vomiterà un addosso me. Come ho scritto nel post, ho già preparato tutti i barili. Vi ho invitato anche. Un attimo, devo... Come vi sentite adesso? Continuate a parlare? Continuiamo i volumi? Io mi sento bene, grazie per l'interessamento. Ciao, ti chiamo Marco. E sono... Parto. Aspetta, quale motte? Ora la metto, non lo so che motte sia. Parola al vento si chiama. Sì. Non so come... E poi hanno aggiunto una cosa bella, le taglie giornaliere. Se oggi uccidiamo un megalotonte, ci danno 30 dobloni. Ottimo. Blu. Quindi, fermi 30 dobloni. Abbassalo subito. Yoga out, dato in, attenzione. Io devo fare una cosa. Volume del gioco. Bannare Zelnight. Zelnight, dimmi un numero. Anzi, Squisit, dimmi un numero. Ragazzi, io... Voi nelle orecchie tantissimo. Comunque, abbassa un pochino il gioco. Squisit, mi hai ignorato. Squisit, dimmi un numero. No, non... Se la live non esplode, non è una live di Sof. No. Simo, Simo, sì. Non dire niente. Luca, dopo scrivimi che ti devo dire una cosa. Che ti farà sbrigare delle listate, quindi scrivimi su Whatsapp. La connessione mi dice che è stata persa, quindi mi devi rinvitare. 31, dice Zelnight. Alice, ma sei diventata bella anche in game. Quindi, 310 secondi. Ragazzi, i volumi vanno bene, perché io sento le voci di Marco e Dado nei miei neuroni. Dado? Dado? Marco e Luca. Mi rinviti, per cortesia. Eh, aspetta, ci sto provando. Dai, perché hai bannato Zelnight? Ciao, boss of Fingu, ciao carissimo. Vabbè, per 310 secondi, dai, non è niente di che. Ragazzi, perché non ho le mani? Vabbè, problema tuo. Tanto non è uguale. Ok, 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 ok. Allora. Come si fa a prendere la pistola col... Con il controller? Eh, lo so. Lo so, Zelnight, lo so. Ciao, boss of Fingu. Perché giochi con il controller? Ciao a tutti, ciao Arti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao Mel, ciao, eh. Ciao, ciao, ciao. Ma no, è una squisi traditrice. Ma anche voi fate così quando io banno le persone. Avevo detto che ti lasciavo giù se tu mi lasciavi Zelnight. Ieri non mi avete lasciato giù se. Ieri non c'ero. Ecco. Non è colpa mia. Scusa, ora abbassa tutti. Ragazzi, ho premuto 3 per prendere il coltello e andare più veloce, sappiatelo. Ciao. Bravo. Perché bannare random? No, non era bannare random. No, non era random. Cioè, sono dei motivi off live. Allora, metto tutti e due al 90... In realtà ci si vuole bene e si scherza. Sì, sì, è un meme in realtà. È un meme, è un meme. Come quando vedrai bannato Juslam, ti devi capire che lui ormai va sempre bannato. Non c'è da fare nient'altro. Ho messo tutti e due al 95, così dovrebbero essere ok. Dai, andiamo... Ok. Ah, c'è un lore. Sì, dai, più o meno. Se vuoi chiamarla lore, sì. Lorenzo, la vogliamo chiamare la... Ok. Ciao, ciao, Murri. Adesso come si... Come sono i meme? di piri di dà cado alla fine ragazzi non gioca questo giocativo quattro mesi ok va bene siamo è la prima volta che la prima volta che estremo io si office i temi come va slagherina un pochino però per te ora vedo anch'io perché io lo giravo tutto al massimo effettivamente se adesso strimo si no no non girano al massimo se strimenti pesa un po allora si sta lagando sarà infatti infatti facciamo tutto evo tutto a mitico facciamo raccomandato si come me all'esame a no aspetta non lo sa come vorrei tanto esserlo io prendo le cose io sto cercando trovate dove si può piazzare il la cosa dello scheletro non so cosa sia ciao didi ciao titi ok dovrebbe essere ok vediamo se oh ci piace quanto fluido bene ciao gemmo ciao gemmo ok gemmo con la voce di l'arzo come la stessa voce di l'arzo no io già confondo la zucca e nildrix e mo se ne metterà l'arzo che eric sono completamente diversi no non è vero non è vero veramente la stessa voce io vi posso assicurare sono uguali venite mi serve qualcun altro qui e non fate i g2 perché mi ha detto anche di 10 di 10 riguardare i g2 ma non so cosa hanno fatto qualcuno qui sto sparando in alto che ha bisogno fare l'emmissario bisogna fare l'emmissario esatto basta che voti te che cos'è l'emmissario allora l'emmissario è l'emmissario io confondo la con cerchietto pensa un po ma non confonde me con ma se beh sì anche giusto concordo ma possiamo cambiare colore la nave faccio io no scuri alla mia ragazzo delle palle che non so cosa facciano quali sono una con le catene uno che c'è delle polline dentro a no qui torna attorno all'emmissario abbiamo sbagliato e ho trovato dov'è quello del mietitore ma quello di mietitore non è al mietitore un attimo che dobbiamo lo puoi fare anche sulle isole ma non lo stavo trovando marco niente sono bellissimi perfetti come sempre abbiamo capito che hanno perso hanno trovato verso male vero hanno verso male probabilmente anzi questo sicuramente che palle ma cosa controller fanno schifo alice non oserei dire questo del controllo perché ti abbiamo regalato no ma ultimamente non sono più in grado boh vabbè è che non ho mai giocato con alice scatta ancora leggermente scatta ancora leggermente sicuramente scatta un pochino scatta un pochino stesse marco pieni dietro che non si sente però l'acqua io non la trento ora è stata che devo fare le cose acqua rimane bella ciao wolframio bentornato ciao wolframio bentornato ad alice piace l'acqua dov'è la roba che mi vado io vado io sparo in alto adesso è fluido dicono come sei vestito marco non lo so non mi ricordo in maniera stupida ragione premi f qui ma la stessa posta di prima e sto annullando il voto lì per metterlo qua arco il mio liceo di un attimo e c'è noi dobbiamo andare in giro con questo pirata che bel crop top che hai grazie liceo valla per me ah no sto bevendo aspetta wait valla per me gillare ma la cazzo gillare ok vabbè ottimo uno voti qua ci mettiamo l'emissario almeno l'emissario figo andiamo a predo finire di vestire mio no 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 vieni cosa dove mettermi anche i calzoncini corti però personalizzò la nave aspetta per gli analizzati analizzata si tira sulle vele tira sulle vele vediamo ora vediamo le vele sono bellissime sono quelle del cercatore non le vedo cerca trova un amico sì marco bastero vari vestiti e non si trovano e sono quelli cercati a viviente di ho visto visto dalla ma c'è da prima la piazza di questo tipo di polnare magari magari ma ha detto che se ne va a luca sempre per la cosa insanni magari magari hai messo le cose di alo c'è l'ala solena ti ha messo la pollena di alo la cosa del cercatore non solo scafo di che cosa sia non mi sono più carino ok rosso e poi metto no no le cose no le vele non cambiarle ok non le dovrebbe aver cambiato se dovrebbe essere uguale sto dovrebbe aver messo i cannoni molto però tipo vele guarda qui cannoni e il timone scusa si è il timore c'ho ancora solo quello non riesco a attraverne altri credo se li vendono aspetta e vabbè cerchiamo io non so che viaggi ho in realtà ce li ho io ce li ho io ma la cosa sarebbe da trovare anche un megalodonte storie assurde cosa sono storie assurde sono i le nuove viaggi no la campagna sono la campagna comunque ancora dobbiamo andare nei vari posti ancora il viaggio della scorta dei teschi e il bottino eccezionale delle isole antiche la scisce buona fortuna con questo tutta la che per sempre quasi polnare con un ref polnare fu luca su non sai chi siano indirà mi dici sei qualcosa di più spicy oppure e dovrei comprarle non ho soldi e allora scegliete il bottino delle isole felici oppure cosa il bottino delle isole felici allora perché c'è l'abito perfetto affronto viaggio veregato nelle wild che accontenterà tutte le compagnie di commercio oppure segui la mappa per trovare un teschio per i rituali dei topi di sentino non ho sepolto per metterlo al sicuro no il testo non ci serve perché il testo si serve se vogliamo fare la fortezza ma giusto messo metto un viaggio normale ma se vuoi ma scusa vado a comprarlo io se vuoi non so con i soldi ma ce li ho ce li ho ce li ho i viaggi non mi costa nulla l'ho piazzato ma sei appena detto che non ce li hai e non hai soldi per prenderlo no il timone non ho i soldi per prenderlo credevo mi stessi chiedendo quello partiamo bene andiamo io e luca non ci capiamo mai mai un'isola con un tesoro ok bel viaggio sono abbastanza sicuro che poi ne partano altri ragazzi sta arrivando a sud tutto a sud e dovete tirare tirare su l'ancora arriva arriva arrivo o vi faccio vedere la quando parte attenzione ciò ci che li grazie per la nata ciao grazie per la salve grazie mille grazie infinite alice non serviva questo è il mio gioco preferito comunque a girati e non ci siamo persi il primo marco per guardare il tuo fantastico outfit ci siamo persi qui si guarda un attimo marco per favore no non farlo no non farlo andando non mi avrai non mi avrai aia non mi ha fatto niente faccia di serpente marco a no così faccio fare la nave wait aspetta tirate giù anche la testa del mio outfit ciao ciao ci chiedeva che carina è bellissimo poi ci che allora abbiamo una domanda chic lì se significa che il pollo se ne va oppure sono le foglie di pollo voglia di pollo io non lo prendo come foglie di pollo io il pollo che se ne va se non è quello io sto dicendo che le foglie se ne vanno ok bravissimo dice allora guardiamo la nuova emote un attimo scusami io lo ce l'ho anche se l'ho presa sbagliato 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 ah intanto ho lo scatto del granchio che è sempre un evergreen bene come si fa equipaggiare le foglie di pollo tutta la vita guarda marco sta facendo un balletto apposta per te anzi è vero guarda qua poi con questo vestito te lo dedico guarda papà 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 che pantaloni veramente strani mi stiamo andando a dosso a qualcosa adesso per fuori lascia stare mia mamma posso cambiarmi qua dentro si si basta che nessuno ti veda ragazzi non entrate mi sto cambiando marco il tuo outfit è molto arabeggiante complimenti arabe grazie grazie io provisamente non so più giocare a questo gioco mi mette ansia il fatto che mi state guardando comunque c'è un galeone a sud sud est aspetta mi sto cambiando ah insieme vi state cambiando ragazzi facciamo adesso anche le gambettini alice guarda questa è andata alice guarda che belle gambe guarda gli stivali al neon poi sono fighissimo perché ho qualcuno davanti a me tra l'altro ma come cambio come cambio l'emote guardate il mare non mi ricordo più l'emote dal forzaere delle vanità che sarebbe questo qua quello dove sono io ma una merda cosa ragazzi non ci faccio più invece di tri invece di titolo ho letto di polo per favore aiuta marco non è studiando troppo porca troia per favore aiuto comunque sa che devo prendere un altro va bene c'è un altro galeone forse lo stesso dove sempre a no sono diversi uno ad est e l'altro adesso l'è l'est al sud sud est non è quello che mi fa pensare che potresti essere una drag queen francamente io sono una bellissima drag queen ma ho sentito qualcuno cadere in acqua no alice alice guarda uso parola al vento per te da 9 molto vederlo sarebbe molto più bello ho arrivato il mio tritone a quello davanti a noi li sono caduto anche io alice sono solo complicato non guardarti posso tentare di non guardare no ma no ma no dico dico che sono c'è sono gli esagitati improvvisamente non so più giocare a questo gioco perché sono molto molto agitata mi lasci guidare la mia nave per cortesia ore è casimo ciao si no le capitano deve abbandonare la nave ragazzi il capitale l'ultimo morirà peccato che era appena caduta con il mio cuore sono sempre con voi e l'ultimo a morire che cazzo detto non era così indovinati dove dobbiamo andare proprio come insola proprio lì davanti immagino quella dove c'è la caleone affianchiamo il caleone lo affondiamo marco ti voglio tutto carico di palle ai cannoni outfit marco del momento un attimo un attimo devo prenderlo tirare fuori che siamo contro vento e alice guarda c'è anche i piedini ok usa quei piedini per correre verso il galeone e qualcuno di voi ha palle magiche allora posso dirti che vorrei dirti che non sono malato che le mie palle sono normali ma non sarebbe la verità le ho già messe tutte dentro non l'ho viste aspetto per le messe se le ho se le ho prese allora significa che non le abbiamo vabbè si fa cambio moneta d'oro per persona dell'equipaggio che viene gettata fuori dall'oro allora ragazzi devo cambiare il controller non so perché ma questo è un po' arruginito questi ci sparano io ve lo dico dove sono? è un galeone davanti a noi siamo anche contro venti aspetta 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 we are friendly don't shoot we are just passing by ma tu hai appena detto vogliamo andiamoli affrontiamo merda sono i cannoni ai cannoni vogliamo combattere io non vorrei combattere se ne stanno andando se ne stanno andando fine era una leggera scaramuccia se adesso si girano è un disastro ma vai una scaramuccia tra amici sai che stanno girando marco hai messo le palle dentro amico amico eh vabbè il tea bagging finito male aspetta eh l'ancora ma perchè l'ancora? sei fuori di testa? perchè voglio vedere loro se ci seguono allora facciamo così in caso marco tieniti pronto sull'ancora in caso dobbiamo allevarla allora no 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 tiriamo su tutte le vele e tira sull'ancora e così siamo due al movimento e basta far scendere le vele però siamo anche contro vento se volete io intanto scendo e prendo il tesoro so dov'è siamo siamo come la ciurma di Rufy i tirati di grande io adesso prendo prendi i fiori e li metto nelle bocche dei cannoni c'è una mappa un attimo perchè non si tocca la testa sta facendo il giro dell'isola eh? si 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 tutto post com'è che si parla? devi prendere il megafono alt 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 senza prendere il megafono? alt 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 col megafono fai solo più rumore ok io cominciamo a muovermi Luca comunque giro intorno alla nave si 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 loro fanno loro fanno anche sulla nave tu stai sulla nave Marco no no te stai sulla nave io penso che ok ho capito dov'è mi giro a favore di vento comunque allora se continui a girare intorno all'isola mi trovo mi stanno girando loro si 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 ok allora faccio il giro a basso ma no no fermo fermo dobbiamo andare piano tanto se ci affiancano siamo ancora anche noi di nuovo a favore come non è qui? dov'è? no è più di qua è più di qua è più di qua ho trovato please we just want to be friends non c'è das no please no mi serve questo por favor silvuple per favore sono morto andatevene lasciamo lì il forziere perché? perché non ce la faccio risponare in tempo andate ma sei morto da cosa? mi sono sponati 5 skeleton alice eh ho cercato di ok ci sparano vabbè tira giù tutto tira giù tutto andiamo andatevene io ora dispono dobbiamo fare il giro tra l'altro ahia vado giù tutto vado giù a riparare tu fallo girare di nuovo la fallo ancora girare dove dobbiamo andare? eh vai a favore di vento il più lontano possibile se vai fuori di vento siamo più veloci di loro sì le sono più veloce ciao Peppe non so più giocare ciao Peppe ciao Peppe ciao Peppe come va? sono wow quanta nave guarda ma perché ragazzi non so più giocare questo gioco? improvvisamente mi metto a streamarlo e non so più giocare vabbè è debito qua si 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 serve una mano giù no 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 ok ok però adesso non si è più fuori girate leggermente a sinistra che così li possiamo sparare noi ma non loro fai seguirli? no no li tagliamo la strada loro non scopriano ma c'è chi ha disegnato sui sitimoni? stiamo solo prendo si sparano la mira? no non ci arriva però era presa bene la mira stiamo prendendo vento eh me ne vado? oppure giro no vai avanti vai avanti vai avanti loro non ci attendono no non ci arriviamo con le cannonate eh io in realtà l'ho superato io l'ho preso si cg marco i miei ragazzi mi chiamano marco vabbè vabbè va bene va bene va bene così andiamo mi butto in mare provo a vedere se li riesco a portare l'ho preso a portare dove sta no? no? Luca sei oh no Luca andrà a uscire si vabbè se li riesco a tirare l'ancora li perdiamo dove? abbiamo almeno un altro viaggio si bisogna cercare quest'isola Marco ehm no no non ci sono i sole nuove no abbiamo un altro no abbiamo un altro galeone che ci segue abbiamo due galeoni che ci seguono perché? ragazzi ci stanno cercando di col rampino eh no ho mancato il galeone arrivo arrivo veloce ce n'è un altro di galeone dietro eh hanno provato mi sa che l'ho preso comunque intanto guarda si strontano una bandiera della pace e attaccano quanti galeoni? eh te l'ho detto è perché abbiamo la bandiera del mettitore mi sa si ma il fatto del mettitore quindi la gente è tipo ehi ma siamo all'uno non abbiamo valore ho spagato dov'è? dietro esattamente dietro ok 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 ho capito che la bandiera è un bait però voglio dire siamo appena salpati aspetta vi trovo l'isola io intanto eh secondo io secondo io ma io sotto dov'è? lascia Marco lascia abbiamo preso vento eh ecco la eh io so dove sono le visole sì è a sud stiamo cercando di flancarci dobbiamo andare tutto a sud noi è questo il problema stiamo andando verso nord non vedo neanche il tipo al timone ah non c'è nessuno ok no 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 se ne sono andati eh ma stavo andando a favore di vento io dove che dobbiamo andare? eh ma l'abbiamo andato a sud lì quindi proprio holy shit sì ma siamo contro vento ora siamo morti eh eh oh questo è il viaggio vabbè provo ad andare da sopra wait allora l'altra dietro è che ho vappato ci sparano ci sparano ci sparano gira tutto tira su un attimo le vele Marco aiuta guarda che non ci risposta da beccare quella era una palla incendiale tira le tutte giura sì sì già fatto continuiamo a curvare io sono anche senza punizioni tutto con te no ho sbagliato non fialisce sono più sulle vele tutto addirittura così se no ci schieniamo sull'altra stiamo andando verso l'altra sì 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 vai a sud Marco sì sì scusate stavo tirando giù le vele questi ho visto visto ma in realtà era finita aspetta non sopra sono sopra sì ma ricarico ma vabbè in realtà il cecchino è hinting però allora a me serve ah lì ci uso il cecchino palla no ma in questo senso ma io se la lancio ci arriva quanto piottano? hai spreditto è perché loro sono a favore di vento vabbè gli ho dato un po' di fuoco a cui pensare dai andiamo 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 andiamocene e più che altro stanno andando diretti verso l'altro galeone quindi ma oh interessante scontro oh attenzione attenzione fight no adesso lo guardiamo da sopra perché perché ho paura che siano insieme i due galeoni sai no ok si sparano perfetto mamma mia ah stupidi guarda che lotta da vedere è bellissimo però Alice ha riscaldato l'acqua sì io così giusto per farli caccare addosso no ah era tua la palla di fuoco che ho visto no le ho lanciate tre le ho messate tutte tre tipo attenzione dove sono? mica li vedo senti i suoni del kraken sì anche io guarda che se ci ferma il kraken ferma anche loro se ci ferma il kraken e noi però lo sconfiggiamo beh loro ci camperano fuori non è che dunque oh il galeone bianco segue ancora noi no sì sì pipiri pipiri vabbè è tempo di rituffarsi due l'are no vado io vado io devo prendere il coso in realtà vediamo un po' quanto manca l'isola no ok non segue noi no non segue noi ragazzi continuano a prendere le tre per correre velocemente come su Valorant bravissimo che poi scusa non è ricorda tre cosa sono quelle luci? allora quelle luci è un luto del mettitore adesso vediamo se sì una cassa del mettitore e quelle valgono veramente tanto no ok il galeone non insegue più noi questa cassa del mettitore qua che è tipo in mezzo al mondo infinito e sono delle luci che si ergono e valgono dobloni blu e valgono dobloni blu sì tra l'altro io ne ho 1125 non so neanche cosa farne io ne ho 920 1125 porca puttana comprati le robe estetiche belle e quanti ne hai Luca scusami 467 c'è un 920 non trovo niente di che mi interessi andiamo a me a far fuori con la sloop ma dice siamo pirati ragazzi non c'è nessuno mi sa anche su una nave porto il liquore a Bings ma come sta guidando? no c'è un capitano qua tra l'altro action guardia è del tipo che la guida? sa che se ne sta andando? no no è qui uccitilo l'ho lasciato Luca sappilo io no ucciso generale Firo oh mi attaccano da dietro bisognerebbe buttarli giù ah capitano andiamo alla nave dobbiamo levare l'ancora farla schiantare e darle fuoco e abbiamo risolto io vabbè parcheggio se riesci a portarti in posizione con i cannoni va bene ma se no ho le palle incendiarie va bene lui è già respawnato abbiamo il galeone c'è il galeone ragazzi merda che paura mi ho colpito qualcosa squalo 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 ragazzi c'è il galeone vuole quella quella navicena lì si poi la nave si sta allontanando ah no non si sta allontanando ah lì c'è un rampione mi rampione credo che non sono neanche in range no ma adesso arrivano con gli altri ma stava già imbarcando acqua per di conto suo questo poverino l'ho luto ok siamo nella merda ok allora andiamo via immediatamente andate bene andate bene andate bene eh marco ci sei? si ok ti raggiungo ma siete italiani anche voi com'è? che siamo? sono italiani recupera sistema la cosa? si merda dove è il ligno arrivan da voi li sto sentendo parlare anche io li sento un po' parlare però vabbè andiamo dove cazzo si esce mette la bandiera della pace Alice andiamo posso spiegare la bandiera? ti ho dato fuoco alla nave? ti ho dato fuoco alla nave? ma quando premio q c'è un simbolo strano in basso a sinistra c'era un forziere? cazzo vabbè cosa? quando premi q? c'è un simbolo strano in basso a destra ah eh no è quello è il quello del messaggero ah ok sono italiani un motivo in più per affondarli infatti non c'è il gatto non c'è il gatto che non c'è il gatto il gatto è soltanto con i soldi veri in teoria ma poi vediamo ragazzi siamo andando verso noi è bene infatti vai verso sud eh vai tu verso sud questi sono qualcuno che ha appena iniziato a giocare ne ho shottato uno ho sentito qualcuno no ma è fortissimo davvero? sì allora torniamo indietro fondiamoli 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 no 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 sono forti sono comunque più di noi sono un galeone vabbè sono i quattro vai a sud andiamo a fare la notte a sud è esattamente lì fa niente fa niente andiamo dovelli verso di te cioè noi ci stiamo andando verso nord va bene allora andiamo verso di loro gli ho rubato un sacco di palle e allora marco cosa stai facendo? mi hai tiroso le vele per girare Alice una volta faccio una cosa intelligente e poi guarda che bel vestitino che ho non so per il tuo bel culetto che hai però va bene guarda che bei piedini Alice ora come li muovo bene scusami io non condivido questo tipo di film aspetta che mi avvicino balla per me stano lucarro di palle ragazzi si stanno venendo va bene non è possibile va bene ma non mi sono curata giro un pochino più a sinistra li passiamo accanto piedini di pirata gamer marco dove sei? mi serve qui arrivo aspetta vai al primo cannone e appena gli vedi sparagli questa palla non mi serviva ci no ci vanno addosso ci vanno addosso tu spari uno su di noi la marca per maria qualcuno l'uccida sta provando che casino però a riso ha detto sono morto ma è italiano? si sono italiani questi dobbiamo riparare l'argano della nave si si voi riparate io sparo no non posso riparare mentre guido wait perché sotto abbiamo acqua arrivo non so cosa largano ma arrivo largano si largano ma guarda che c'è riuscito fuori la parola interina anche a voi cosa largano c'è scritto largano c'è largano l'ancora ci hanno rotto l'ancora ora può girarla una sola persona ci bastano due non ci spreco altre assi vai dove sono? adesso di noi li ingaggiamo li ingaggiamo li ingaggiamo ma Luca io ti ho chiesto ingaggiamo lì no sono in più di noi credevo non volessero ingaggiarci ora hanno accetto la sfida ah ma porca troia ma hai rotto qua dietro Alice e passione marinai sì quindi mi gioco preferito però non sto riuscendo ma se dicami ne racconto adesso volete posso provare ad usare mouse stasera per la prima volta se non sai le combo dei tassi non ti conviene che magari bravo Marco che bucchia acqua che mica foste vuoto l'ho fatto anch'io ma mi sono accorto quando ero salito magari da un po' di motion sickness e vi dà fastidio allora qui è più facile sparare se usi mouse e tastiera quello sicuro ragazzi sto per togliermi la maglietta forse sono fermati sono fermati sono fermati li prendo non vedo quanto siamo veloci vabbè vai a sud abbandoniamoli sono ancora lì sopra sì sono fermi sono fermi dobbiamo andare a sud sì sempre a sud guarda 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 ci stanno seguendo ci stanno seguendo si si nidri che dipende dal dipende dal dal tempo atmosferico quindi il tempo e con c'è i colori più vividi cioè adesso il mare è così ma poi il mare può essere calmo può essere in tempesta può esserci la nebbia può esserci buio può esserci È bellissimo È fatto benissimo Non dipende solo Dalle cose altruose Ma anche dal bioma Ci sono Questo bioma Forse è più bello Per la Per la Per la Per la Che A chi ti riferivi Il drick Anche nella vita reale Che forse Non è il caso Di spogliarsi Neanche nella vita reale Ah ok Ma ho caldo Io Sto di farare l'arca Siamo ancora contro vento Comunque Eh Loro ci seguono Tra l'altro Loro Sciano a portata Di cannoni Noi no A me comunque Lagga malissimo Sto gioco di frame Sto erano Abbassa la qualità Non mi va E allora Sei stronzo Impostazioni E lì sono davanti a noi Sì ecco Magari Metto l'altro Quanto a leggendario Forse Non è il caso Io ce l'ho potuta A leggendario Comunque ne vedo Soltanto uno Sì abbiamo il galeone Qui dietro di noi Allora Qui Quest'isola Davanti a noi Ha una parte interna Devi riuscire A entrare lì dentro Ah presente Presente Qual è Sì 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 Lo so fare Però con la pressione Del galeone dietro Noi ti abbassiamo le vele Sì Alzate le vele Però lì c'è l'ingresso E dall'altra parte Come dall'altra parte Seriously Sì ci sono tre ingressi Allora no 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 davanti Davanti a noi ce n'è uno Non ascoltare Marco Ah no è vero Ragione 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 Non sento in destino Scusami No non ti va a pennelli Assumo perché abbiamo dietro No Vabbè Che cazzo Si sparano anche dall'isola No entra 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 nel Sperano anche dall'isola Attenzione Sì Guarda che ci chiedono Fanno il panino No si stanno allontanando Eh tirate su tirate su perché siamo a favore di vento Io ho già tirato su Io ho già tirato su No ho tirato su quell'altra Lì davanti a metà Non sta tirando su Eh perché a favore di vento Quindi è più difficile Ok ok Lasciatela un pochino e basta Aspetta aspetta No 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 Luca Tira su tira su tira su Che poi prendi troppo Sì no perché Mentre premevo giù Marco ha lasciato il su Quindi ha dato uno scatto verso il basso Allora Ora voi pian piano dovete uscire In quella davanti alla nostra Alice vai un po' a destra Sì 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 lo so lo so lo so Io vado a prendere il forziere Voi uscite alla nostra sinistra E dovreste trovarmi lì col forziere ad aspettarvi Se tutto va bene Se ho calcolato bene il punto più che altro perché Guardate che meraviglia questi già Mi dispiace di non poter velo mostrare in qualità Upe e Ipe Leggendaria però Ok sì Inizio al giro alla sinistra Ci sono anche le galline Sì sì Ci sono i pesci Sì ci sono sempre stati Ci fa anche pescare Sto gioco Non solo se lo so Il mio potere scappare I pesci con l'arpione Ah lì ci sono caduto Esame di guida Ma Fildom Alice mi si è bagnato tutto quanto il vestito Dispiace Strizzatelo Io sono conosciuto Per sapere guidare E basta in questo gioco Non so sparare Non so fare più E vabbè giocare con il controller Che fare questo Ci sono un po' di scheletri Una mano Luca Esatto Io tanto vi giro attorno all'isola lo sapete Ho sentito un barile Esplorso Sì 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 Mi spegno Guarda là abbiamo anche un coso dietro Che si spara Ok è trovata Viene da aiutermi a scavare Mark Sì sì saranno Guarda quanto siamo Sono fortissimi Che viaggio di merda due forzieri Abbastanza Era uno anche di livello alto Gira un po' a destra Se noi non arrivo mai alla nave Sì 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 È che Sai com'è Da dietro mi è arrivata una palla di cannone Mi ha sciolato Mi ho visto dalla live Sì Ora piazzo l'altro viaggio Qualcuno a votarlo Hanno give a fare gli altri? Sì 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 Hanno smesso di seguirci Allora L'altro viaggio Qua dietro Propongo un viaggio Un altro Vediamo come va Di nuovo una Che cazzo vuol dire È una gorgia Sono viaggi altissimi questi A quanto pare non sei così Sono al 50 Abbiamo a est abbiamo di nuovo il galeone ragazzi E che cazzo però Oh ma non hanno niente altro da fare questi Ma che cazzo No 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 Per dire una cosa è abbannabile Esatto Non dirlo Anch'io ho preso il 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 Coso Il Coso in mano Poi mi ci ricordo Merda siamo live Quante palle incendiare ho? Nel zero Cos'è che stai facendo? Io ne ho Abbandonati in mare Luca Please Ne ho una in realtà Luca Fortunatamente io gli servo Luca servimi tutto Voglio che adesso Tu mi vada a portare un panino Grazie Che giro facciamo? Luca si è butta in mare Est dobbiamo andare Ho capito ma est Esattamente L'ho detto Gira da destra Gira da destra Si lo so quello che sto facendo Ma tu non mi ascolti Non mi ascolti mai Avevo Marco che mi parlava E scusate Allora è molto tipa mia Ciao Capcan Come va? Tutto bene? Ciao Venom Beh è tutto a posto? E' un altro Scusa Qui si ogni tanto Ascolto le cazzate Che dice Marco Allora Allora Andiamo a fare in culo Tutti quanti Pezzi di merda Io vedo che Venom Ha già capito Che è sempre colpa di Marco E' creato un altro Ma hai ragione Allora No Ok E' che palle Questi tirano Alice vai un po' a sinistra Sinistra? Si Non vedo niente Mi vado a rompere i coglioni Luca ascolta le donne Ti servirà in futuro Questo skill Avrei detto Alice Ma poi picchia tutti Si E' vero Ecco bene Non dire Alice Però adesso Ok va bene così Può andare dire così Ok Non l'ho vista Chi è che parla? Si ho sentito parlare Questi sono questi Sono questi Mi hanno sentito Che ansia In che lingua parlano? Italiano Sono italiani Io li sento C'è uno strozzo Che ci raga Mi ho fatto Bid a ridere Ci sparano dall'isola Peccato che mi hanno visto Ma in realtà È un sviluppo del Enka ha detto la verità Sacro santa Stai lontano dalle donne Sono nel male È vero Luca dove sei? Si è avuto a chiamare Sto dando fuoco alla loro nave Sto dando fuoco alla loro nave Pezzo di merda Luca Mi dissociano dal comportamento Veramente Boh Non so Marco tieni rotta la nave Vediamo come stanno Gli ho dato fuoco alla nave però Andate avanti Ora loro si devono rallentare Tieni Tieni rotta Marco la nave Che palle però Non so Riuscendo a ucciderli Oh cavo Perché sei così violento? Perché ci inseguono Sono assolutamente fine Loro comunque Sto dando fuoco alla nave Sì C'erano loro un attimo confusi Peccato c'era uno Nella stiva Mi ha trovato lui Ma voi dove state entrambi? Io sono sopra Ti ho detto di tenere in rotta la nave Sì sì sto qua Ok se ne vanno Se ne vanno Sto vedendo dalla light No fanno il giro Se ne vanno Non rischiano Cosa rischiano? Gli ho dato fuoco alla nave L'impostazione Nel giramento C'è una cosa molto interessante Dove? Cosa? Ma sì la cosa dei viaggi Immagino no? No le impostazioni Impostazioni? Allora Aumenta che il contrasto Della X indica il punto? Boh Ah posso aumentare il campo visivo Non lo sapevo Non lo so Qualità effetti particellari Maledetto Davvero? Anche io ho maledetto il minimo Eh io l'ho messo al massimo Perché dovevi avere maledetto? Ma anche a me Me lo metteva apposta Maledetto Perché tipo Non ha fiducia Che il tuo computer lo regga Giuro No dice Praticamente c'è un segnatore Che dice Qualsiasi cosa voi state facendo Dove sta? Ma siamo Ragazzi Luca E Marco E Marco Marco c'è Una cosa ti avevo chiesto Ti hai rinrotto la nave Ti hai rinrotto la nave Così è colpa di Venom ragazzi Ancora Ancora Sto riparando Tirate sulle vele Per favore Tirate sulle vele O l'ancora Qualcosa Ci ci schianta male Siamo chiusi Allora Facciamo così Guarda che casino Che avete fatto Marco 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 Qui l'ancora Marco Qui l'ancora Ora No Non sparare Qui si te devi tirare Tutto il settimo nazionista Ci devi far uscire da qui Va bene Faccio io Marco Tieni in rota Non è vero Eh Non è vero Luca No Non avete tirato giù l'ancora Verò Eh Non avete tratto giù l'ancora Ok ma Ragazzi No 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 C'è ci muove Io intanto Cerco il forziere Già c'è Ragazzi Ma che casino Siamo sopra La vita Cosa avete fatto Non è possibile No Allora Proviamo a far così Allora Proviamo a far così Da fuori Da fuori Io non so Come è possibile Questa cosa Posate fare un'altra battuta Sul fatto che le donne Non sanno guidare Perché io veramente Io sclamo Ah no Alice Io non stavo guidando Semplicemente Di colpo la cosa Ti ho chiesto Alice Pensavo se stessi tenendo te A quel punto da rotta Guardate Squizzi guardate La nave da fuori Per favore No ma Non ne usciremo mai più Tipo Sì Ne usciamo Ora vi faccio vedere come Grazie a un update Esatto Esatto Che soffine Ma non è uscito da una nave Dai Oh Usate i rampini Gli arpioni Ah giusto Con quelli uscite Sono fatti apposta Secondo me anche loro Ci sono rimasti male Per questa cosa Sì no Allora hanno smesso di seguirci Hanno visto sto casino Sono andati Prova a guardare cosa sta accadendo No dobbiamo uscire Dobbiamo uscire dalla situazione Però perché sta tornando No no Non si può fare Con il quell'ampione Non fa niente Allora o prova a mettermi A favore di vento Vediamo se In qualche bug Lui pensa di muoversi No Anzi direi di no Perché in teoria Le curve sono molto più Ragazzi per cortesia Spariamoli Sì 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 Prendi Prendi i cannoni Eh mi ragazzi Ma non ho sciuttato Lol Eh ti mirano Ti sparano Non diterò Tanto loro Non ci possono colpire Ragazzi restatemi Tanto loro si sono messi In attenzione Si è morto Merda C'è cosa che dice Merda Merda Che vuole far farare E chi vuole star sparare Dicono Ah ah stupidi idioti Hanno fatto Questi mi devi restare No no Non posso restare Non posso restare Non so anche dove sei Eh sono un altro Ti ho visto morire E il barile Ci ha fatto uccidere Cosa stanno dicendo Mentre bevo Rovescio la coca cola Merda Sperate Sperate che non bestemmina Sono morti Sono morti con la boba Non vi lasceremo vita facile Lo sapete Stavo sentendo il mio eco Da uno di loro Merda Niente Mi hanno distrutto Ma io come faccio a parlare Senza Ah con alt 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 60 Dublon Qui Ehi là Tanto non abbiamo nulla Sulla nave Ti giri Dai Guarda che siamo in stream Siete in live Siete in live Dite ciao Bella raga Comunque com'è possibile Che la gente del 2020 Usi la chat di Valorant E di Se dirà Valorant Di 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 Per parlare Sono morto subito Stanno fissi sulla nave Non so come Se li uccidiamo Spanatevi ora Non ho paura no Non abbiamo più la nave Ho paura di sti qui Non voglio dirgli Comunque si Ah spisi se sotto Sì ma tanto io non sono capace A combattere Ah l'ho ucciso Guarda Ma tanto non sono capace A combattere con il controller Eh Passa la Al mouse e tassiera Tanto una Hai ragione Sulla nave No non c'è nessuno No adesso basta Sul ponte no Ce n'era una e basta Ce ne sono andate La nave è ancora lì L'hanno portata via Nave non c'è più Ah 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 Dietro 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 Cazzo E infatti Sapevo che non sai Venite venite Vabbè Prendi un'arma corta Eh ma devo andare nelle No una soltanto di incendiaria Devo andare Ti sto rimando qui Oh mio amico Grazie L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho sentito da lui Noi non avremo più nulla Vado a prendere l'arma Da distanza Sto mangiando Questa sensibilità mi sta facendo Abbastanza Comunque non so se riusciamo a riuscire No Siamo incastrati Io non so come funziona Forse ragazzi con un barile riusciamo Magari spodere No il problema sono le rocce Le rocce qui a sinistra Che non riusciamo a spostarci No ma non è Semplice Facciamo l'unica cosa sensata Venite con me Andiamo Che è successo? Lava è affondata È affondata È sparita È diverso Venite con me Eh prendiamo Dov'hai? Venite Non so perché L'avevo preparata per l'evenienza La bandiera La bandiera La scialuffa? La bandiera La bandiera non ci serve a nulla Tanto Dai Me ne vado Dai Dai Adesso vi faccio vedere una cosa bella Quello che fermo Che fermo Ah qui Si ferma Sali Arrivo Puoi sederti eh C'è la panca E ora Grazie Non male Non manda di stare in piedi Sali Ciao 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 Sì scusami Stavo divertendo Sì stavo E via Questa è la nostra nuova marca Andiamo Ma che nello schettino esatto La figlia di una grande avventura Che imbarazzo ragazzi Ma scusa C'è il tritone Ragazzi noi siamo diritti contro la nave loro No è uno scheletro No è uno scheletro Passiva 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 Sì sì infatti Ma io mi assicuro Non so come sia finita lì Quella nave Sai com'è finita Che eravamo a favore di vento Marco non stava tenendo il timone E ci siamo andati dritti Era distratto Allora stavo con le impostazioni grafiche È colpa di È colpa di Scusa No ti vedo sotto la gonna Così Marco È orribile Ti vedo le mutande Che cosa sono le impostazioni Dove sono le impostazioni Quelli Quanti cannoni ha questa nave Guarda Appena ne alzò la gollella Teni mostro uno Allora Ci sono delle scialuppe con le navi Con i cannoni In realtà Io si canta più Era pirate Sì Poi che non me la ricordo Come cazzo faceva We are a pirate Invaccinateci Being a pirate Do what you want Cos'è un pirate Do what you want We are a pirate Sì subito Questa canzone è perfetta Marco cosa stai Marco Stai venendo la life No no Non si possono vedere Sotto le guardie Che voglio Aspetta Non saltare Marco E poi ti fai male Anzi Adesso Mi faccio male Cati è diversa Che belli che siamo Guarda che cade Adesso Della tua animazione Tarantella Cosa sto vedendo Squi A parte che mi stai dando Il culo Però non è senso No no è molto poetico Sì no Come se mi stessi sentendo Su la tua faccia Vado a letti i bambini A dove stiamo andando In tutto ciò Alla van post C'è una canave Oh Dove È un galeone È scheletrico Doveva essere scheletrico Sto vedendo dalla live Sembra scheletrico Tutti gli altri Le fortune Dammi il controllo Perché sta venendo Un crampo al dita Ragazzi Facciamo andare a fare il ride Sì Beh sì Il reddere navi Sicuro Beh no Lo puoi fare Nulla te lo vieta Però non porti via la roba Non si possono Gli scheletrici No Gli scheletrici No Non puoi guidarli Puoi solo affondarli Tra l'altro Io qui non so se hai visto Cosa mettono Cosa mettono Cosa giù Attenzione Le navi fantasma Sono i nuovi ride Davvero È il prossimo update Sì Ma noi non abbiamo ancora Fatti un ride di navi Tra l'altro Di navi sì Per il completo no Io non l'ho mai fatto Hai se l'hai fatto da solo Luca No no C'eri No Abbiamo iniziato Sono abbastanza profonda Abbiamo iniziato Ah no è vero Si percò a metà Si percò a metà Che erano solo due navi E si è finito Eh sì Eh ora arriva anche Il colonale di fantasma Che diventano noi Interessanti Dai che ci siamo quasi Marco però Poi a te Sembra tutto pesante Questo senso Non è che mi stai sopra Ah ok Non me ne ho accorto Questo senso Ok 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 È tipo il finale di È perfetto Non lo spoilererò Però dico Una cosa così triste Che ti spetta il cuore C'è questa cornellina Siamo Allora io vi dico Piccolissime ginocchiette Pirati dei Caraibi Iniziava così Jack Sparrow era su una scialuppa E poi diventa uno dei pirati più famosi Noi faremo quella fine Allora No Su di te Penso che tu punti per la simpatia Cosa vuoi Alice? Dai ci siamo quasi Questo Non so Barbarossa Siamo quasi cosa Ma perché dovremmo andare qui Scusami Perché abbiamo un forziere Abbiamo un forziere Uno lo abbiamo E tutto ciò che c'è rimasto Jack Sparrow è una collellina e giro anche la gallina Ma io sono più figli di Jack Sparrow infatti Vai ci siamo Dai faccio la gronna se non era da Alice Vieni vieni Dove siete finiti? Marco sei un pirata con un gran carisma e simpatia Grazie grazie Consegna Allora in dono abbiamo portato questo Perché la gallina è felice È per il cacciatore Non so se può essere caduto 650 un bonete Mi sa che non ha credito Ma non è uscito neanche che Ma non è uscito il guadagno ragazzi Non è uscito il guadagno Mi scusi Avrei dei reclami E tutto ciò che è rimasto Alice sono il re del mondo Marco Palla No Non mi avrai Così ti impari Stronza Andiamo ad apriagarci Andiamo ad apriagarci Andiamo ad apriagarci Ma qui Ma c'è tutto un set di oggetti di colore rosso Ma dove? Dal tizio degli strumenti qui È interamente rosso Ma su questo va un posto Perché sai che cambia no? Sì Su questo Tim Tim diventerai il mio Merciante preferito Merciante? Merciante Io un botte di quattro La completa Io cambio la chidonda Mi prendo tutto il set di scheletro Eh non posso ancora raggiungerlo Devo avere il livello 38 Dell'alleanza del mercante Ah ok ecco Però è molto bello Io sopprendo tutto il set di scheletri Con quello ce lo dovresti avere La pagina dopo È molto figo Non mi piace Ah ma No ma perché te ce l'hai Perché li stai vedendo per tipo Perché io sono una persona Voglio una gironda bella Do come Tu gironda c'è di bella Io l'abbia mai visto Questa che è bella La prendo Grazie Vabbè Andiamo ad apriagarci per cortesia Sì Andiamo Andiamo a vedere del room E visto che sono le 22.59 Ma che casualità Che live ricca di contenuti Doviamo così Alice Tu hai mai visto una barca Scusa Mentre mi hai visto una nave Arenarsi così Allora per la nave Sostanzialmente ne spawno un'altra Vedi quella signorina laggiù Ci sta aspettando Perché noi Perché noi arriviamo lì Lì diciamo Eh portami alla nave E ti Hai spawnata sostanzialmente Un'altra nave Da qualche altra parte E Come l'avevi personalizzata tu Mi sembra sempre No non è vero No sì Sì la personalizzazione rimane Luca Allora l'hanno aggiornata Un tempo non rimaneva Ehm Non devo obbligarmi con voi Beh io mi sto vestendo Vediamo cosa mi offre Non sembra tipo le palle per la pizza Le palle per la Avvo capito le palle Le palle per la pizza Infatti era un attimo confuso Non capisci le palle Figuriamoci Eh vabbè Io non posso selezionare Quello in mezzo Tra l'uncino E il Ah la gamba I rivali del pappagallo Quanti del pappagallo Senti il Duke Mi è veramente deluso Vali un boccale carino Tipo Non lo so Questo qua Perché gioco Mezzo in italiano Mezzo in inglese Dov'è che è mezzo in inglese Forse le ultime cose Non sono Aggiornate Le ultime cose Potrebbero non essere Aggiornate Ma che cos'è che ne ho Arrivedo in taverno Non so Type selector Punto Tolte In descrizione Anzi ho visto È tutto pagato Sì Quello è pagato Ho visto adesso Qualcosa lì Ha dato storto E invece di fare display Sta Mostrando il codice Allice Vieni Andiamo a bere Vieni Vieni No ragazzi Io Io piango Aspettate Arrivo anch'io Qui vuoi vedere una cosa Che ti piacerà un sacco Appena riesco Sono caduto Aspetta Ma dai Questa È la mia lanterna Dov'è Anch'io la posso comprare Ma me fa un po' schifo È stupenda È tutto blu Piacente Ragazzi È la Io poi guarda questo Guarda questo boccale È quello aristocratico Ah no È quello del Ma Quello dei Sceletri È stupendo Aspetta È un drago Andiamo fuori Perché qui è tutto buio Sì Infatti Ragazzi A Maserati Dove sei Amici Con questa meravigliosa bevuta E questa live Super triste È l'intera di tre Non è caduto Kaito Che ha fatto questo scozzo Che mi ha dato fuoco Grandissima Alice Allora Noi ricordiamo che siamo in live Dai che strozza È tutto fuoco al caffè Dalle 22 alle 23 Qui c'è l'acqua Dalle 22 alle 23 E tutte le sere Grazie di aver seguito questa live Tristissima Io avevo spinto Tutti quanti Per dire Questa sera facciamo sotto Vi prego Voglio di giocare sotto Ah ma io sono rincoglionito E niente Andata così Sono molto triste Abbiamo ancora le missioni ragazzi Sì Abbiamo ancora Le missioni Eh sì Non l'abbiamo mai fatte Finite Vabbè Scam E niente Seguite il nostro canale Instagram Nostro profilo Instagram Dove aggiorneremo tutte le pomeridiane Seguite il nostro canale Telegram Dove manderemo tutte le notifiche Seguite il nostro canale YouTube Dove caricheremo presto I nuovi best of I nuovi videini Esatto E niente Grazie a Le foglie di pollo Per averci Polluato E per averci Così Dato la subscription Sulla feed Così randomissimamente Grazie mille Ancora Tutti i giorni Dove rinunciarono live up Quindi è stato molto magico E niente Grazie Grazie Irene Grazie a tutti i ragazzi Mi dicevamo domani Dalle 22 ore 23 E reddiamo redabile 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 Dovrebbe esserci Croscentine Oggi No Di controllo Ah no Crosta Ok Andiamo da cross Faccio io Faccio io Faccio io Sto scrivendo io Ma non ha senso Per partire due E niente Andiamo da cross Giuslam Giuslam Senti Facciamo così Cosa? Facciamo così Facciamo così? Oh Impazzuta Così sei contento Ottimo Bene Come sto affogando Io mi sono bannata da sola Perché così Perché Giuslam Aveva Si è bannata Giuslam Aveva redimato Il fatto che Dovete Muttarli E quindi niente Ah io ti ho Tattato a due Ora lo devo Anzi Per un po' di volte L'ho risultato E mattata Vabbè ragazzi Noi ci chiamo Domani Andiamo da cross E gli diciamo Ali di pollo croccanti Ali di pollo croccanti Dai Ciao ragazzi Ciao Ciao